Ciao amiche e ciao amici, come generare tensioni emozionali usando Whatsapp? Whatsapp è uno strumento che si presta molto alla produzione di emozioni e come si sa nella seduzione è importante generare emozioni perché se generiamo emozioni andiamo a coinvolgere quella parte emotiva delle persone che è quella che determina l'innamoramento, è quella che determina il coinvolgimento. Inoltre questa parte emotiva non ha la prerogativa di distinguere tra bene e male, tra piacere e sofferenza perché la distinzione è di fatto una distinzione logico-razionale per cui noi possiamo sfruttare le modalità della parte emotiva per agganciare una persona e Whatsapp si presta molto perché Whatsapp genera dei dubbi, genera delle tensioni a tre livelli. Allora il primo livello è proprio come funziona lo strumento, il primo livello di tensione che possiamo generare in una persona è ricevere un messaggio da una persona e non aprirlo, non leggerlo restando però offline. Il secondo livello di tensione, quindi se vogliamo generare più tensione, è quello di farci vedere online dalla persona ma non leggere il suo messaggio. È un livello di tensione superiore e la persona inizia a pensare, inizia a dire ma come mai questa persona non sta leggendo il mio messaggio? inizia a fare tutta una serie di proiezioni perché poi uno proietta ciò che ha dentro in realtà non proietta ciò che non ha dentro per cui se uno si sente brutto o brutta tenderà a dire ma magari non mi vede bello per dire oppure poco interessante comunque noi tendiamo a dare le giustificazioni ai comportamenti degli altri proiettando cose nostre fondamentalmente. Un altro livello successivo di tensione che possiamo generare è quello di leggere il messaggio poi con molto ritardo e rispondere con molto ritardo cioè ricevo il messaggio oggi e ti rispondo tra tre giorni fondamentalmente questa è un'altra modalità diciamo tensiogena e quella più tensiogena in assoluto è quello di leggere il messaggio e non rispondere noi possiamo utilizzare diciamo questa nuova tecnologia fondamentalmente questo nuovo modo di comunicazione per oltre al significato che noi diamo al messaggio a quello che scriviamo anche proprio attraverso questa modalità e certo che uno dice l'altra persona può dire io mi incavolo eccetera ma nel momento in cui uno si incavola se non eccediamo nel farlo incavolare automaticamente si coinvolge pure perché tende a voler accertare la motivazione e quindi tenderà poi un po' a inseguire va usata in modo calibrato e infatti le strategie di seduzione si basano proprio sulla calibrazione di queste modalità però Whatsapp è veramente interessante da questo punto di vista bene per questo video è tutto se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere sotto un video di risposta nei commenti in più se questo video ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici e metti un mi piace ciao